Sono appunto una biologa e ho avuto il piacere di collaborare in questo progetto bellissimo e quindi di far parte del nucleo di valutazione delle app che è stato difficilissimo perché sono state tutte ben fatte non è retorica però è vero, è stato difficilissimo seguire tutti i criteri di valutazione che ci sono stati inviati e che siamo stati invitati a seguire, mi ripeto ma è stato difficile perché le app sono state ben fatte è stato bellissimo vedere l'interazione dei ragazzi che hanno creato gruppo perché la cosa importante è proprio lavorare in gruppo, lavorare da soli non porta da nessuna parte